Da oggi il Super Green Pass è illimitato e quanto deciso dal governo Draghi in quanto non è ancora autorizzata nessuna somministrazione della quarta dose del vaccino. Quindi chi ha ricevuto la dose booster oppure seppur con sole due dosi è guarito dal covid non subirà alcuna restrizione e il certificato verde non scadrà nel tempo. Per tutti coloro che invece hanno due dosi ma non hanno contratto il covid oppure per i guariti ma che non hanno due dosi il Green Pass durerà sei mesi. Novità anche riguardo le scuole mentre in Abruzzo circa uno studente su cinque si trova in didattica a distanza. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia qui le classi dovranno rispettare una quarantena di cinque giorni in caso di almeno cinque positività al virus. Nelle scuole primarie invece è introdotta una differenzazione tra bimbi vaccinati e bimbi non vaccinati. In caso di cinque positività saranno solo quelli non vaccinati a dover rimanere a casa per cinque giorni. Nelle scuole secondarie stesse regole, dad per i soli non vaccinati che però scatta al secondo caso di positività. Dall'11 febbraio inoltre verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e riapriranno le discoteche. Capienza al 75 per cento per i locali all'aperto, al 50 per quelli al chiuso. Il 31 marzo inoltre finalmente scaderà lo stato d'emergenza. Era il 31 gennaio 2020 quando l'ex premier Conte lo proclamò per la prima volta. dopo un anno e due mesi quindi si potrebbe tornare all'ordinario esercizio della democrazia ma non escluso che venga ulteriormente prorogato. Il 15 giugno scadrà anche l'obbligo di vaccino per insegnanti, operatori sanitari e forze dell'ordine. Attualmente l'Abruzzo è reputato a rischio alto. L'indice RT è a 0,74, il tasso di ospedalizzazione in area medica è al 38 per cento, il dato più alto di tutta Italia, mentre in terapia intensiva è al 19 per cento, quattro punti percentuali oltre la media nazionale.